Benemerenza conferita ieri dal presidente del consiglio Giorgia Meloni durante la cerimonia a Roma del giuramento del 94esimo corso allievi vigili del fuoco al comando di Venezia e ritirata dal comandante dei vigili del fuoco ingegner Mauro Luongo a nome di tutti gli operatori impegnati con notevole coraggio e non comune lucidità nel difficile intervento del bus precipitato da un cavalcavia a Mestre dove 60 vigili del fuoco hanno operato riuscendo a salvare 15 persone e recuperando purtroppo i corpi delle 21 vittime